Ciao a tutti, grazie a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraftita Nel nostro episodio abbiamo... beh, non sapete cosa abbiamo fatto, se non lo sapete andate a guardare il video Non so perché all'inizio di ogni video, il capitolo, quello che abbiamo fatto nel episodio del primo, non lo so Non lo so, più forte di me Comunque, come vedete, sto pulendo una zona dell'isola principale, per precisione, l'angoletto Perché? Perché voglio andare a costruire insieme a voi un'altra statua Perché ho trovato tutta una serie di tutorial davvero bellissimi che ti insegnano a fare queste statue E penso che, beh, primo punto, sono bellissime Secondo punto, ti aiutano, ad esempio, a allenarti per quando facciamo i minigames Ehm, come si chiamano, le... le build battle Perché uno ci scherza, ma a forza di fare tante di queste statue Uno piano piano si abitua al concetto che c'è dietro Ad esempio, ho già imparato a fare le braccia standard Ho già imparato a fare un corpo standard Quindi, insomma, ACAB ACAB E, per capire bene di cosa parleremo oggi Non basta nient'altro che guardare il titolo Costruiremo uno spartano Un po' perché, ehm... L'altro giorno stavo guardando un video, tipo, del discorso finale del film 300, così E mi è piaciuto abbastanza Sono quei film che, tipo, rimarano nella memoria di tutti per sempre Tipo Harry Potter, che tutti si ricordano di Harry Potter Si ricordano per sempre di Harry Potter E cose così, 300 Sono tutti classici, diciamo Classici moderni E poi perché Giocando sempre più spesso a Clash of Clans Uno spartano e un barbaro, bene o male Siamo là come concetto E vabbè, prendiamo due piccioni con una fava Allora, per iniziare creiamo una base Più o meno Anzi, non più o meno Esattamente un 5x5 E poi, diciamo, agli angoli Creiamo altri due Posizioniamo altri due blocchi In questo modo, come se fosse un hashtag E poi lo riempiamo dentro Perfetto Poi, andiamo a creare i piedi Per fare i piedi abbiamo bisogno di un blocco Allora, i colori I colori dipendono tantissimo I tutorial che sto guardando Usano delle texture addirittura Ma visto che Sia io che voi Preferiamo molto il più la texture vanilla Useremo i blocchi vanilla Allora, per i Diciamo, le parti di armatura in pelle Perché sappiamo, no, che c'è l'armatura in ferro Più o meno, in metallo comunque E l'armatura in pelle Quindi, per l'armatura in pelle Usiamo il legno di Di pino, sarebbe Spruzzo, penso Sì, pino E questi sono gli stivaletti Perfetto Nel piede davanti Creiamo Diciamo, la cavigliera Un blocco di pelle Perché con la pelle la facciamo Con il più chiaro che ho Quindi Birchwood E poi una scala Scala al contrario Un blocco di pelle Una scala E qui due scale al contrario Una verso l'alto E una verso il basso Per l'altro piede Un blocco di pelle Poi la scala Di... Per l'armatura E questa volta subito sopra Perché questo è il movimento Questa sarà dietro Un po' più stazionale Perché lo vogliamo fare Che si muove Il nostro spartano Una scala E poi saliamo un attimo Con la gamba Ora mi sono craftato Delle scale di quarzo Perché Beh, è semplice È risaputo Che i romani Scusate Gli spartani Beh, ma anche i romani Insomma avevano questo Vizio di andare in giro Con le palle all'aria Loro indossavano solo Gonnelline Così anche in guerra Le gonnelline Gonnelline qua Gonnelline là Perché è trendy La... La moda di Milano Non lo so Non lo so Fatto sta Noi seguiamo La moda Andiamo a fare Questa gondellina Mi ero anche dimenticato I blocchi di quarzo Blocchi di quarzo Qui a ponticello Una scala Ecco Micchio Questo Sempre due palle Farlo Allora Una scala Così Due scale Al contrario Scala normale Stessa roba dietro Questa moda Riesco a farlo Anche da qui Normale Normale All'ingiù All'ingiù Normale Normale E questa è la gondellina Tra l'altro Con la gamba Che avanza C'è anche un piccolo Scorcio Di Di Sottogonna Ora Andiamo qua in su Perché bisogna fare La forma a t Di cui vi avevo già parlato Si fa così Pum Poi così E poi Si va giù di scale Le scale come le mettiamo Allora Verso il basso Qui al contrario Ancora verso il basso Però facciamole coincidere Ce la faccio Ok Mi sarebbe un blocco Un po' diverso Per fare Mi sarebbe un po' di terra Che cosa mi servirebbe Vabbè Comunque Un blocco Centrale Da tutte e due le parti Che poi Andremo ad espandere In questo modo Quindi tre per lato Che poi in realtà Davanti forse È meglio metterle Così Una qua E una di qua Così l'armatura È bella Che bellina Poi facciamoci Una crafting table Così Un dottoronale indietro Scendiamo un attimino Leviamo qua tutto L'ambaradama Perché ho bisogno Di altre scale Per precisione Saliamo E le scale Le mettiamo qui In questo modo Mi piacerebbe Metterle unite Però Poi qua Al posto Di queste cose centrali Nella riga centrale Mettiamoci Le spalle Quindi due blocchi Bianchi Così Pure neri Se volete fare Uno spartano nero Poi in realtà Prenderemo anche Degli slab Di legno scuro Per fare le spalline In pelle Come abbiamo detto prima Pensandoci Le scale qua frontali Cambiamole di nuovo Mettiamo le esterne Tipo questa E questa Fai Così E così E così Così Sembra più un corpetto No Perfetto Ora le braccia Allora Il braccio destro Reggerà La lascia No scherzavo La lancia E quindi deve essere protesa Verso l'avanti Quindi un'altra scala Così Poi Facciamo Una cosa Verso Di qui Esatto Così Ok Così Molto meglio Poi ci serve Un pezzo Di legno scuro Per fare il polsino Di nuovo Un pezzo bianco Ok In questo modo Signore e signore Abbiamo Le braccia O almeno Un braccio Perché se effettivamente Un po' lunghino Sto braccio Accrociamolo Quindi mettiamo questo qui Questo qui Questo lo togliamo Questo lo togliamo Questo lo togliamo E questo lo mettiamo al contrario Quindi Così Perfetto Così va meglio Per l'altro braccio Andiamo qua sopra Allora Prima scala Seconda scala Poi un blocco Chiaro Il polsino E un altro blocco Perfetto Così abbiamo anche le braccia Va la va la Che belli Ora facciamo la testa Per la testa ho bisogno di altre cose Però Bisogno di Un po' Di blocchi Ah no Ce l'ho già presi Cos'altro mi serve Mi serve Della lana Per l'elmo Che poi In realtà L'elmo che faremo È più un elmo romano Che un elmo spartano Più che altro Perché lo vediamo Appoggiare sopra Non vogliamo coprire la testa E quindi Cioè Non saprei come farlo Nel metto Solo Spartano Cercato anche tutorial In giro Ma non ne trovo Cioè Arrangiarsi così Come si può Posso la lana Potremmo anche usare Della clay rossa Tanto il colore Più o meno È sempre Vivace Allo stesso modo Già che ci siamo Dormiamo Per la testa È relativamente semplice Facciamo il collo E la testa Ecco Questo diciamo È Il collo Piccolino E questa è la testa Per renderlo più figo Ci metteremo anche La barba Come la mettiamo La mettiamo così Al contrario Se riesco Sbagliato Sono caduto Perfetto Ma vabbè da qui Riesco a metterla Se mi ci metto Ok apriamo da qui Rompi questo blocco Fai Così Esatto Eccola qua La barba da spartano Poi con delle scale Che ho finito di nuovo Non ci credo Facciamo L'elmetto Che è questo Però tre scale bastano Per fortuna Saliamo un po E piazziamo Nel metto Stavolta da romano Quindi non è un vero e proprio Spartano Però non lo diciamo a nessuno Tocca a scendere di nuovo Perché devo anche fare Delle trapdoor Per concludere L'elmetto Due trapdoor Eccole qua Tanto vi faccio vedere Come è fino ad ora Sta già prendendo le sembianze Quella è la barba Là c'è la faccia Stavo pensando Di metterci dei bottoni Per indicare gli occhi Ma mettendoli ai lati Sembra un gigante scemo E quindi Ho voluto evitare Andiamo a mettere Le trapdoor ai lati Così almeno Cioè Evitiamo di dire Mancano le orecchie Manca questo Manca quello Perché andiamo a chiudere Come se fosse parte Dell'elmetto Anzi è parte Dell'elmetto Levo un attimo Sta cosa di cleve Che devo piacere L'altra cosa Perfetto Boom Perfetto Qua sopra Dovemmo essere a posto Ora da dietro Però vedete Non è che sia proprio Il massimo Quindi metteremo Anche un mantello Mantello che faremo Con della lana Che al momento Non ho E devo craftarmi Devo andarmi a prendere Dalle pecore Solo che La mia farm di pecore Devevo caricare Dobbiamo farne un'altra Però intanto Possiamo mettere La lancia Esatto La lancia Che è fighissima Ecco qui Perché servivano I blocchi extra E poi Vabbè La voglio fare All'altezza Della statua Quindi saliamo Ancora Passa attraverso La mano Fai conto Fino a qui Quindi altri due Saliamo ancora E piazziamo Due cobblestone wall Che sarebbero la punta Perfetto Quindi abbiamo La lancia Che sembra più Uno scopettone Del caminetto Però insomma Uno scopettone D'eccesso Però siamo già lì Siamo già Lì A buon punto Poi faremo Anche uno scudo Si insomma Sta venendo bene Andiamo ora A controllare Per quanto riguarda La lana Perché come dicevo Ho bisogno di lana Per fare il mantello Che comunque Richiede più o meno Tanti blocchi Penso Un mezzo stack Più Forse uno stack intero Ora vediamo Allora andiamo Nella mia farm Di pecore Di pecore Pecore rosse Io ne avevo poche Così ho preso Cinque pezzi Di lana rossa Che non mi bastano Per niente Non ci faccio Manco il primo pezzo Qui c'è un po' Di questa lana Qui c'è Altra lana rossa Ok sono 22 pezzi Buono Buono Un bel po' Di lana in effetti In quella cesta Però non ci interessa Torniamo su Purtroppo non mangialo Come vorrei Bisogna fare Dei super quadratoni Giganti Pieni di pecore Allora Qua sotto potrebbero Essere cinema Questo è il villaggio Sotterraneo Però Magari c'è qualche cesta Con qualcosa di utile Qua c'è una cesta Piena di cobblestone Che è buono Però non c'è Quello che serve a me Cioè Lana rossa Va bene Torniamo su Tra l'altro ho finto anche il cibo Boom Pollo gratis Dalla farm di polli Grazie mille Si O lo apprezzo Ora colorante ne ho Però non voglio usare il colorante E fammi la lana Bianca Di tasso lomen rossa Perché non posso Non ho lana bianca Quindi sinceramente Non saprei come tenerla Questa lana che mi manca Di pensare Ok ecco quello che mi viene in mente Posso tornare Al Tempio Giapponese Dove c'erano tutte quelle pecore Nel scorso episodio abbiamo trovato tantissime pecore lì Vado lì Per lo più lana possibile Vengo qui Il colorante ce l'ho Non è un problema Ho il bon meal Ho i I cespugli di rose E mi faccio Le mie cosette Non chiedetemi perché mi dimentico sempre il cavallo Mi piace camminare Allora Come al solito sono caduto nell'acqua Sono arrivato qui Ora devo semplicemente Cercare tutte le pecore Ma è vero già un botto in realtà Speriamo che ce ne siano tante che mangino in fretta No tu c'hai nera Hai la lana nera non mi serve Lana bianca for me Sono già 11 pezzi E forse ho altra lana in quella cesta lì Ora che ci penso Io so che qua è pieno di streghe e di gente Lasciamo stare Nel vedere se nella cesta ho altra lana Teoricamente dovrei averne Non mi pare di averla usata tutta Ci ho giusto fatto il letto mi pare O mi serve peraltro Ah non è vero l'ho usata per fare i banner E invece ne ho un botto Perfetto Ho anche altro rose bush Rose red E un po' di bon meal Prendiamo anche questo E torniamo a casa Che bello il cespuglio di rose Ora ho tantissime rose Perfetto 18 18 Boom Ho uno stack e uno Di red bull e non ho paura di usarla Saliamo Allora Mettiamo Leviamo ste scale Sì Leviamo le scale C'è una cosa di questo tipo Così Scendiamo Però Come mi suggerisce il tutorial Al visto che lui ha una gamba in avanti E il braccio alzato Dovrebbe esserci Un attimo di sollevamento Nella parte destra Del coso Quindi come si fa? Ah intanto Scendiamo Di un paio di blocchi Poi si fa una cosa di questo tipo Tipo Mettine uno qua Rompi quello Rompi questo No Al contrario Scherzavo Renderlo ancora più figo Leviamo un altro blocco da lì E lo leviamo anche da lì Perfetto Riprendi la lana Che ho fatto per ottenerla Ridammela Ecco Ok Così va meglio Ho aggiunto un'altra Un altro pezzo di lana qui Perché quando uno muove il braccio Di solito Il mantello Gli va attorno Insomma È un mantello Questo è l'importante Così Così va ancora meglio La luce cosa che manca È lo scudo Come lo facciamo lo scudo? Beh allora Lo scudo uno deve mantenere Questa abbiamo bisogno di inserire Una specie di manicotto Qualcosa Ho delle fence Non ho delle fence Fammi crezare delle fence Me ne bastano un paio Ok Ce l'avevo già Perfetto Vabbè usiamo quelle che ce l'ho già Allora Allora diciamo che voglio mettere Una cosa di questo tipo E Le Scale Così O al contrario Proviamo anche il contrario Per vedere come sta meglio No 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 Meglio Meglio così O ancora meglio Così Così va bene Anche di qui E ora devo tornare a casa Perché per fare lo scudo Voglio usare un blocco diverso Cioè lo stone bricks Che avevo messo a preparare Spero che sia finito Ok pronto Trasformiamo tutto in stone bricks Amen Possiamo andare Anzi mi serve anche un blocco un po' più particolare Per fare il simbolo degli spartani Usiamo il legno da caccia In mezzo al Diciamo Al reggiscudo Mettiamo Un blocco così E poi Tre Blocchi da tutte le parti Quindi Tre blocchi di là Uno Due Tre blocchi di qua Uno Due Tre Ora riempiamolo Come se volessimo fare una specie di quadrato Messo a 45 gradi Così Papà Pamma Ora facciamo un paio di modifiche Ad esempio Prendiamo delle scale di cobblestone Che come sempre finisco in quantità Industriali Allora Leviamo il blocco finale E lo trasformiamo in cobblestone E ci mettiamo le due scale Così Poi qui una scala al contrario In modo che sia frontale Perché non vogliamo che sembri Un Ancora un quadrato Quindi non la metto così Ma la metto Per dritta Stessa cosa di qua Quindi quel blocco Diventerà Blocco di cobblestone Voglio solo cercare di piazzare prima la scala Se riesco Boom 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 Idem con patate Saliamolo e facciamolo anche qua Ultimo blocco Mi sa che non ce la faccio con le scale Porca cagna Manca una scala Che bello Perfetto Anche l'ultima scala è andata Ora Prima di Darla Vinta Voglio fare Il logo degli spartani Che In realtà Sarebbe tipo una lambda Un po' strana Cosa usiamo? No Usiamo le mie di acacia Avrei potuto usare ancora Il La red stain clay Ma Non sarà il caso Invece facciamo una cosa di questo Tipo Esatto Perfetto Signore e signori Abbiamo il nostro simpaticissimo Spartano Eccolo lì Con il simbolo sullo scudo Di sparta Mi fai salire là sopra Per favore Sono caduto Direi che ci sta Ci può stare tranquillamente E detto questo Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare mi piace Vi è piaciuto questo video Di iscrivervi al canale Se come vi hai fatto E di seguirmi su Twitter Instagram Facebook E ovunque voi vogliate E niente Ciao Turuturututti